c'è poco da dire c'è poco da dire e veramente c'è molto da dire però da dove partiamo partiamo dalle scelte di formazione non abbiamo tercini non abbiamo tercini la squadra deve rifondarsi dai tercini perché ne abbiamo quattro ma è come se non li avessimo perché gulam che torna 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 non torna mai e non è mai in forma non può fare più di due partite e quando fa solo una partita la fa male Malquith bene davanti ma dietro male Isai non ne voglio parlare Isai che a me non dispiace neanche tantissimo cioè io lo venderei per carità però non lo considero lo scarsone che tutti ritengono per me è un buon giocatore un buon terzino ma se fa queste partite prendesse le valigie e andasse dove vuole Mario Rui Mario Rui il problema perché io avrei fatto giocare gulam perché con gulam al momento giochi in 10 con Mario giochi 10 contro 11 con Mario Rui invece giochi in 10 però l'arsenal gioca in 12 perché anche questa volta il primo gol è colpa di Mario Rui perché gulibali esce perché Mario Rui non torna perché cade a terra poi si rialza si sarà guardato un po intorno avrà visto qualche bella ragazza sugli spalti buon per lui non torna con calma si fa una passeggiata si piglia un caffè mentre intanto gulibali esce sul non mi ricordo chi era sull'esterno dell'arsenal e Mario Rui non è il tempo di coprire la zona di rientrare e coprire la zona di gulibali la casetta la mette in mezzo per ramsey 1 a 0 il secondo gol grande fabian ruiz sempre il solito il grande fenomeno arrivato qui dal dal real betis che voi ricordiamoci sempre questo viene dal betis non viene dal real madrid viene dal betis poi diventerà forte sì tra tre anni diventerà un fenomeno e poi si parlerà di lui al real madrid al barcellona al paris saint germain già sappiamo com'è come la canzone che mi sono dimenticato qualche terzino no e vabbè quindi i terzini vanno rifondati il centrocampo idem allan per il quarto anno consecutivo arriva a marzo aprile che il migliore poi crolla non gioca più cioè perché giustamente uno che corre 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 non viene mai sostituito soprattutto quest'anno tra l'altro grande scelta societaria sempre sul pezzo questa società di vendere tu hai per una volta superiorità numerica io mi sono emozionato avevamo la superiorità aveva una squadra fin troppo completa che era ottimo perché l'ancelotti che faceva un po di turnazioni turn over mi vendi ansic mi vendi rog da un centrocampo a 5 me lo lasci a 3 diavara si infortuna centrocampo a 2 e sono entrambi sono entrambi stanchi sono entrambi stanchi allan non si riconosce più fabian sapete come la penso zielinski bel gol bel gol mangiato da zielinski pure dal fenomeno più su dopo ne parliamo zielinski e cajon in questa partita male cajon zielinski completamente assente cajon sbagliato più passaggi che altro culibali e maximovic culibali sfortunato sull'autogol poi non so se l'hanno dato a lui hanno dato il gol a torreira maximovic bene meret ci ha impedito di uscire già dall'andata praticamente perché poi i tecronisti che hanno detto il napoli è entrato meglio nel secondo tempo no perché se non fosse stato per meret finiva 5 a 0 finiva 5 a 0 e passiamo ai due fenomeni lì davanti alla grande scelta di mister coppa perché tu hai una coppia che funziona milic mertens io mi ricordo che dal 2016 le prime partite erano jeme mertens una coppia che l'hai ritrovata funziona mertens stava giocando di nuovo benissimo milic sempre bene tu mi lasci fuori il bomber della squadra mi lasci fuori il bomber per mettermi in signe che viene da un infortunio cioè ma uno c'è milic ma che deve pensare io se fossi milic di andrea d'ancinotti ci do una testata in bocca e ci dico ciao ciao io ti sto ti sto tenendo io perché ti sto tenendo io io e culibali e meret alan non più ti stiamo tenendo noi tre la squadra perché senza questi tre e alan questa squadra lotterebbe per la metà classifica senza meret culibali alan e milic questa squadra lotterebbe per la metà classifica ma non metà classifica come la fiorentina metà classifica come il cagliari perché questa squadra è una stagione non è un po e parleremo in un altro video magari se la stagione fallimentare o no ma io penso che alla squadra non si possa chiedere di più questi sono i risultati della squadra un secondo posto e poi mi direte vabbè però se è arrivato secondo se ha un grande distacco ma che vuoi fare in questo campionato che vuoi fare in questo campionato con squadre come con tutto il rispetto il frosinone il chiepo la spal il cagliari il genoa le empoli e l'utinese ma anche le grandi tu non hai fatto punti con le grandi che grandi ma grandi in questo campionato se le mettiamo in inghilterra retrocedono tu hai vinto 4 a 1 con la roma perché la roma era una squadra non dico da retrocessione ma anche lei da metà classifica ma bassa e sei a 20 punti dalla juve tu dall'anno scorso hai fatto un progetto con sarri hai preso dei risultati con sarri che sono tolti avevi accorciato mi direte vabbè secondo posto a 4 punti secondo posso a 20 punti sempre secondo posto è no perché a me non interessa a quanti punti si finisce alla juve a me interessa competere a me non interessa neanche vincere perché so che questa squadra non è attrezzata per la vittoria lo so benissimo ma io voglio competere poi perdo ma le emozioni che ho avuto l'anno scorso non me le toglierà nessuno e io rodo ancora sì io rodo ancora per il secondo posto per come è venuto per l'errore di firenze per qualche errorino a milano tra inter e juve ma noi abbiamo sprecato molte partite l'anno scorso però non è questo il momento di parlarne ma io voglio competere io non mi sento competente quest'anno non mi sono mai sentito competente competente il campionato dal 3 a 0 la sampdoria ho subito pensato vabbè questa stagione in campionato non faremo nulla in coppa italia subito eliminati col milan in europa league che hanno detto il napoli non è arrivato qui per caso ha preso zurico e salisburgo che non volevi passare quarti non volevi passare quarti con queste due squadre col salisburgo stavi pure uscendo stavi pure facendo una bellissima figura di di quello che sappiamo è preso hai fatto sembrare l'arsenale una bella squadra è una bella squadra una grande squadra ma le abbiamo fatti fare i fenomeni perché una grande squadra contro questo napoli faceva 4 a 0 faceva 5 a 0 ne hanno sprecate le occasioni l'arsenal meret si è superato culibali e maximo ci hanno fatto un paio di buone chiusure ma contro questo napoli tu lo tieni tutto il tempo in area di rigore e fai 5 gol quindi la rimonta non è impossibile non è impossibile la rimonta io da tifoso se devo guardare a tifoso io ci credo perché ovvio perché io da tifoso devo credere perché se no non tifo che ti fa fare che me ne vedo a fare le partite se sono sicuro che perdo se non credo che il napoli possa fare qualcosa io ci credo da tifoso ma da uno che analizza il calcio che vede io dico è contro questo arsenal che in trasferta sbaglia le partite molto spesso un fattore casa un pubblico come il san paolo che quando vuole perché ormai pure il pubblico non è proprio eccelso con le contestazioni che pure con la juve vabbè che contestano il tempo dell'aurentis mentre la squadra sta buscando dalla juve vabbè non sostenendo la squadra le contestazioni non si devono fare allo stadio mentre la squadra perde l'arsenal lo puoi battere ma non in queste condizioni perché tu non puoi prendere gol perché se prendi gol ne devi fare 4 e tu ne devi fare comunque 3 per passare perché 2 vai supplementari ma poi supplementari non è che c'è te la giochi poi ai rigori ma noi non abbiamo rigoristi e lì c'è un altro paio di maniche non abbiamo i rigoristi quindi se il napoli si mette con la testa perdete a verona perdete non mi interessa però dovete vincere con l'arsenal voglio a verona la primavera voglio la primavera a verona voglio farli riposare tutti da younes a culibali devono andare in campo devono convocare me col chievo verona ma dovete andare contro l'arsenal con la testa con la voglia con le idee questo questo napoli non ha idee ci pressano ma noi non sappiamo che fare il napoli usciva palla al piede usciva con i fraseggi con sarri tu sapevi avevi la sensazione che potessimo fare qualcosa io non io sono stato 90 minuti così a guardare la partita sperando che ci fosse qualcosa ma sapendo che non potevi fare nulla perché non hai la gente non hai il regista ti manca il regista non hai quello che dalla difesa ti fa il lancio in avanti non hai il bonucci per quanto culibali sia buono anche in fase di impostazione non è quello che ti fa il lancio di di 50 metri ti becca l'attaccante che si inserisce che tra l'altro si inseriscono pure male perché insignia è stato fuori gioco per 90 minuti 80 perché poi è uscito e si è mangiato pure due gol due da uno clamoroso lui è quell'altro scemo di zienischi ecco l'altro video ho detto mancano di testa me l'hanno dimostrato non mi hanno smentito purtroppo mancano di testa tecnicamente sono entrambi forti ma mancano di testa insignia mi ha stancato insignia mi ha stancato questo raccomandato che ora vabbè raccomandato diciamo per dire ma perché non lo concepisco non lo concepisco come questo che gioca male e ritorna da un infortunio da tre giorni e gioca al posto di milic io non lo concepisco ma anche al posto di mertens non doveva giocare doveva fare l'impact player entrava spaccava la partita anche se non è molto capace di spaccare la partita che tra i tre quello più capace è mertens a fare questo ruolo perché lo ha fatto con benitez lo ha fatto con sarri e lo ha fatto anche inizio anno con ancelotti questa squadra va rifondata questa squadra va rifondata vanno presi dieci giocatori del napoli attuale e vanno venduti vanno presi dieci giocatori che non mi interessa se il sedicenne che gioca sotto l'oratorio o il quarantenne che si sta per ritirare devono essere uomini scelti da ancelotti non mi interessa chi è chi sono i giocatori che sceglie non mi interessa però deve sceglierli lui deve fare lui il mercato perché questa squadra non è forte è a buon potenziale perché l'anno scorso perché con sarri facevamo bene perché avevamo un dodicesimo uomo che era il gioco che esaltava questi giocatori adesso non è più il gioco non è più le idee questo napoli non sa che fare è imbambolato non sa che fare con la palla i giocatori chi ha la palla non sa che farne chi non ha la palla non fa i movimenti rimangono dietro i giocatori si nascondono e io ho anche paura di un'altra cosa che non ci sia più l'intesa perché in campo sono scesi 11 giocatori non è scesa una squadra se sono scesi 11 giocatori non una squadra e non sta scendendo in campo una squadra non da roma da parma non sta scendendo in campo una squadra perché con la roma io voglio ricordare sono tutti arrivati gol per delle intuizioni io non vedo gol attraverso degli schemi intuizioni ma il napoli non può campare di intuizioni perché non ce li ha i giocatori non è la juve che può campare di intuizioni perché ha cristiano ronaldo douglas costa bernardeschi dibale e manzo che c'è solo in attacco e quadrato e dietro altri fenomeni noi abbiamo verdi ma scherziamo non possiamo campare di idee dobbiamo avere un gioco dobbiamo avere un criterio dobbiamo attaccare con delle idee il napoli non ha idee e ancelotti deve lavorare su questo tra l'altro penso che questo 4 4 2 non sopravviverà perché l'anno prossimo secondo me per quella dichiarazione che fece di ho mandato caillon da ci abbia lonzo sarà un 4 3 1 2 l'anno prossimo con fabian regista alan e caillon mezzali zirischi trequartista e le due punte e la difesa a quattro sempre secondo me poi sono in diciamo idee sono idee mie un 4 3 1 2 poi può diventare albero di natale se giochi con mertens non so che altro dire meret non ho già detto che fenomenale veramente e deve essere uno dei punti fermi di questa squadra nel futuro lo stesso milic che va ben entrato non ha fatto bene però ma uno si demoralizza anche questo e questo ti sta decidendo le partite dalla partita a belgamo con l'atalanta e tu ogni occasione buona lo togli cioè un grande gestore di uomini ma non direi proprio da quello che sto vedendo non direi proprio comunque quest'anno il napoli non mi ha mai dato l'idea di essere una grande squadra perché i grandi risultati sono arrivati le prime due risultati per due rimonte contro le big e poi 3 a 0 con la sandoria è arrivato quel periodo in cui ogni volta che credo che questa squadra possa fare bene poi mi fanno ritornare con i piedi per terra mi annullano con un dito perché poi facciamo quel bel filotto 3 a 1 col Torino 3 a 0 col Parma perdiamo con la Juve male però vinciamo con Liverpool vinciamo con Sassuolo vinciamo l'Udinese poi 1 a 1 con la Roma 0 a 0 col Chievo poi facciamo la vittoria a Genova con quelle condizioni vinciamo a Bergamo vinciamo a Cagliari vinciamo in larghezza col Frosinone perdiamo 1 a 0 con l'Inter facendo quella figura facciamo 3 a 2 in casa col Bologna riscando di pareggiare vinciamo 2 a 1 con la Lazio riprendendoci dominando usciamo 2 a 0 con il Milan venendo dominati vinciamo 3 a 0 con la Sandoria e poi non vinciamo più vinciamo 4 a 0 col Parma e poi facciamo quelle figure col Sassuolo con la Juve col Salisburgo vinciamo 4 a 1 con la Roma e poi non facciamo più punti abbiamo fatto un punto col Genoa in casa in 10 contro 11 accidenti tra l'altro che gioca bene o che gioca male Marek Amsic era fondamentale per questa squadra perché guarda un po' il crollo totale del Napoli da quando è arrivato da quando abbiamo perso Amsic e Amsic quando l'abbiamo perso Inter Napoli 1 a 0 l'abbiamo perso lì perché si è infortunato ed è tornato alla Sandoria giocato alla Sandoria guarda un po' forse la miglior partita dopo dopo Parma probabilmente dopo Roma la terza miglior partita di questo girone di ritorno con Amsic poi guarda un po' perdiamo con l'Inter facciamo quella figura col Bologna che vinciamo però col Bologna e poi dopo due partite perde 4 a 0 in casa col Frosinone quindi non stiamo parlando di un gran Bologna di questo Bologna di Milano che c'è che è buono quello ancora di Inzaghi 2 a 1 con la Lazio bene 0 a 0 col Milan 2 a 0 col Milan perso 3 a 0 la Sandoria che c'era lui poi 0 a 0 col Torino 0 a 0 con la Fiorentina 4 a 0 col Parma buono 2 a 1 con la Juve perdiamo con vinciamo le due partite con lo Zurico e se non le vincevi dovevi solo spararti lo stesso in casa col Salisburgo perdi a Salisburgo perdi con l'Arsenal vinci a Roma bene perdi con l'Empoli pareggi con il Genoa questo giro di ritorno è da incubo no cacciate le palle e rimontate perché ha rimontato la Roma ha rimontato la Juve ha rimontato il Manchester United fate una rimonta cavolo